Benvenuti nel mondo degli orologi Jungans. Jungans è uno dei marchi di orologi più famosi e rispettati al mondo, con una lunga e prestigiosa storia nella produzione di orologi di alta qualità. Fondata nel 1861 in Germania, da Erhard Jungans e Jakob Zeller-Tobler, l'azienda ha iniziato la produzione di orologi meccanici di precisione, diventando rapidamente una delle principali aziende di orologi in Germania. Nel corso degli anni, Jungans ha introdotto numerose innovazioni nel settore degli orologi, dimostrando sempre una forte attenzione alla precisione e alla qualità dei suoi prodotti. Nel 1970, l'azienda ha introdotto uno dei primi orologi al quarzo in Germania. Grazie alla sua dedizione alla ricerca e all'innovazione, Jungans è riuscita a mantenere la sua posizione di leader nel settore degli orologi, diventando un simbolo di eccellenza e qualità. Uno dei modelli di orologi più iconici di Jungans è il Max Bill, creato in collaborazione con l'artista e architetto svizzero Max Bill. L'orologio è caratterizzato dal suo design minimalista e funzionale, con un quadrante bianco con numeri neri e lancette sottili, e un movimento meccanico di alta qualità. Il Max Bill è diventato un simbolo dell'orologeria moderna, grazie al suo design elegante e al suo movimento preciso e affidabile. Oggi, Jungans continua a produrre orologi di alta qualità, sia meccanici che al quarzo, utilizzando ancora oggi la stessa dedizione e la stessa passione che hanno caratterizzato l'azienda fin dalla sua fondazione. L'azienda è attiva in molte parti del mondo e produce una vasta gamma di orologi per uomini e donne, tra cui orologi da polso e orologi da parete. Ogni orologio Jungans è realizzato con materiali di alta qualità e con una grande attenzione ai dettagli, garantendo una precisione e una durata eccezionali. Il marchio Jungans è noto per i suoi orologi dal design minimalista e funzionale, che uniscono eleganza e precisione. Grazie alla sua reputazione di eccellenza e alla sua lunga e prestigiosa storia, Jungans è diventato uno dei principali marchi di orologi in Germania e nel mondo. Gli orologi Jungans sono apprezzati da appassionati e collezionisti di tutto il mondo, grazie alla loro bellezza estetica, alla loro precisione e alla loro affidabilità.